Stai pensando di cambiare casa per goderti la pensione in un luogo più tranquillo, vicino alla natura o vicino alla tua famiglia? Cambiare casa può sembrare semplice, ma spesso si incontrano sfide inaspettate. Scegliere la casa giusta, affrontare la burocrazia, vendere al miglior prezzo possibile. Ci sono molte decisioni importanti da prendere. Ecco perché abbiamo sviluppato per te un servizio su misura in tre step. Primo, analizziamo esattamente le tue esigenze abitative. Secondo, valutiamo il tuo immobile per venderlo al miglior prezzo possibile e nei tempi prestabiliti. Terzo, creiamo un piano su misura per ogni aspetto della compravendita. Da oltre 40 anni, noi della Rubinio Immobiliare siamo qui per aiutarti nel cambio casa affinché tutto sia fluido e senza stress. Per scoprire come possiamo supportarti, ti offriamo una consulenza gratuita ed un piano di fattibilità. Vuoi saperne di più? Clicca su Scopri di più e compila il modulo. Siamo pronti ad affiancarti per rendere il tuo cambio casa più sereno e sicuro possibile. Grazie a tutti.